Ciao, sono Ale, dei Maitai Zibol. Anzi no, sono I Maitai Zibol. Questo è il trailer del nostro prossimo video. Non possiamo permetterci di fare un trailer serio perché i nostri registi sono dei cazzoni. Dammi una birra. Dai. Noi, Gianni. Fai l'emo triste. Non si è da cacciarsi invece. Ehi. Motore. Motore. Via. Via. Com'è ne è così? Stai entrando? Devo dire qualcosa di stupido. Via. Mi sa prendere il mio video! Devo dire qualcos'altro. Cazzesuoi? Ci sia cazzesuoi. Cazzesuoi!